Voglio ringraziare e salutare tutti, dal Sindaco di Milano, Pisapia, al Presidente Maroni, ai Presidenti del Consiglio che hanno lavorato in questa lunga e delicata sfida, al Presidente della Regione del momento dell'inaugurazione e di quelli che ci sono susseguiti nel corso degli anni. Fatemi dire grazie a due persone in particolar modo. La prima persona a cui voglio dire grazie è il Sindaco di Milano, Letizia Moratti, che ha avuto l'intuizione di questo evento e che ha avuto il desiderio dieci anni fa di scegliere questi temi. Ha avuto una collaborazione costante da parte di tutte le autorità e in particolar modo, me lo consentirete, delle autorità che a Roma hanno svolto un ruolo di dialogo. Dovrei citare tanti nomi, ma probabilmente basta che ne citi uno. In questi nove anni la solidità istituzionale è stata garantita da tanti, ma in particolar modo dallo sguardo deciso, tenace e affettuoso di Giorgio Napolitano su questo evento e su questa città. insieme, tutti insieme, a cominciare dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cui va il nostro grazie e il nostro ti aspettiamo a Miliano, caro Presidente, per questo evento.